E noi stiamo a lamentare come Departamento di Salute Pubblico che l'ultimo anno stiamo a prendere molta attenzione e non solo stiamo a prendere l'attenzione del veterinario, anche in anno, con la parte basica, che la food safety chiede un ruolo importante e che consenna la parte di higiene. Sto mirando che se vuoi non comprare il requisito di consenso la parte basica, sempre alla fine, che portano le conseguenze grandi. E ci risultano più i hobbini e la higiene. E noi stiamo a lamentare come Departamento di Salute Pubblico, noi stiamo a prendere l'attenzione, noi stiamo a prendere l'attenzione, noi stiamo a prendere l'attenzione, noi stiamo a prendere l'inspezione e la controllo della nostra località. Il momento in cui la gente sta a prendere l'arruzione, quindi ora non stiamo a controllare, lo mirogoloso quando sta immagricente, noi stiamo all'образata, che ci sono adattieri meno, noi stiamo a prendere le loro f junti in anche. Ci sono un modo che non ci enfants hizo come questo, è un perfetto di attenzione che noi stiamo a prendere un tipo di attenzione. Love ma passate abbiamo fatto un'accezione grande che tome un luogo con un altro departamento un momento che il barco non si tratta da ruba con il prodotto che vogliono ponere il barco non c'è forma più corretta non c'è forma parte di un'accezione grande e se è una cosa che noi ci vogliamo seguire in linea e non c'è parte di attenzione con il problema che non tratta e lo metterà e dopo anche con l'ora che vogliono distribuire e se è tampe lo metterà è forma più higienicamente per tutto ciò che noi ci vogliono seguire in linea e non ci vogliono prendere l'attenzione il barco è forma che noi stiamo andando in tutto un luogo tra Venezuela e Aruba costa di lasciare anni e dopo anni costa avere la costumbre di maniera che il controllo non stia tanto rigoroso però mirando che ora che non c'è tutta la situazione con la pace tra Aruba e Venezuela che è un momento in vero che noi come departamento noi ci vogliono ponere le regole estricche anche per sopravare che noi ci vogliono mettere il riso e la qualità di comando con l'aruba che noi ci vogliono accettare che ci vogliono e che ci vogliono con l'aruba che ci vogliono accettare anche per questo e ci vogliono con l'aruba che ci vogliono prendere l'attenzione con il prodotto che ci vogliono come un certificato di salute che ci vogliono essere capito per il consumo umano maggiore e il risultato che ci vogliono con il paese che ci vogliono vendere l'aruba via Cargo Center, via Venezuela e non ci vogliono come un certificato di salute se ci vogliono un'aruba ci vogliono 3 ore e ci vogliono ma ora che ci vogliono se ci vogliono commenti un punto che ci vogliono attenzione e ci vogliono inserire ci vogliono un certificato di salute dell'autorità di Venezuela con il prodotto è lo stesso che ci vogliono l'aruba pro mezzo 30 circa noi